Si incontreranno anche oggi gli ambasciatori all'ONU di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Russia e Cina per tentare di trovare un accordo sul testo di una risoluzione che spinga il regime siriano allo smantellamento del suo arsenale chimico. Le posizioni restano distanti, per Mosca è fuori discussione che venga inserita l'opzione di un intervento militare in caso di inadempienza, richiesto dalle potenze occidentali. Aprendo i lavori dell'Assemblea Generale, Ban Ki-moon ha chiesto agli Stati membri di ritrovare l'unità e incrementare gli sforzi per risolvere il conflitto siriano dopo gli sconvolgenti risultati del dossier degli ispettori ONU che hanno provato l'uso di gas sarin contro i civili. Il segretario generale ha auspicato che si tenga al più presto la conferenza di pace. Si aggrava l'emergenza umanitaria in Siria. L'ONU ha stimato in 7 milioni le persone bisognose di aiuti. In oltre 2 milioni sono fuggiti dalla Siria. In queste immagini satellitari della NASA si vede la drammatica espansione del campo profughi di Zatari in Giordania dall'inizio della guerra civile. Quella che nel 2009 era un'area desertica si è trasformata in un pezzo di terra sovraffollato che sta esplodendo con i suoi 110.000 rifugiati siriani.